Foraggio, è ora di fare il giro del faro! Sì, voglio fare il giro del faro! Piano, non corre! Non si può dare altro? Si dice, può fare, buona fortuna è perfetta, grazie Almeno l'abbiamo identificato, niente un pezzo Mitch Hanson ha comprato la vita di Santon più di tre anni fa Sì, da stabilito che la vecchia ferita d'arma da fuoco, quella che l'ha ucciso, risale a uno o due anni fa, significa che...